buongiorno buon pomeriggio e direi pure buon allora prima accontentiamo la bestia e dopo allora sono tagliatelle no di nonna pina di giovanni rana con tonno peperoncino aglio e capperi una roba proprio ecco buon appetito a chi vuol mangiare assieme a me fatto una roba veloce su quelle che si cucinano in un minuto buon appetito come sempre ho messo troppo peperoncino ma non importa a me piace un pezzo che non lo mettevo avete visto perché sto cominciando a diminuire perché non è che mi faccia tanto tanto bene a me il peperoncino ecco ragazzi vi devo dire una cosa allora basta però dopo è allora stanotte girovagavo in giro per tik tok no mettiamo un po più vicino così ecco girovagavo un po in giro per tik tok ho beccato una che faceva una live una ragazza avrà avuto 20 22 anni che piangeva piangeva perché il ragazzo l'ha mollata era lì con una sua amica erano in macchina e facevano una live dove piangeva di rotto perché il ragazzo l'aveva mollata allora lì mi è venuto in mente una cosa no come anche qua sia cambiato anche qua quelli della mia età potranno capire ecco quando 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 ero giovane io avevo 15 16 17 anni ma a chi è che non è successo di esser lasciati penso a tutti no almeno una volta si è stati lasciati nella propria vita no ecco però una volta quando venivamo lasciate non c'erano i social perciò cos'è che si faceva penso che un po tutte le abbiamo fatte andavamo a casa perché già già quando uscivi con un ragazzo e sto ragazzo ti diceva ti devo parlare già te eri rassegnata perché sapevi già che se ti doveva parlare ti mandava quel paese e perciò già uscivi che eri rassegnata giusto ecco poi trovati ti lasciava cosa che si faceva si andava a casa ci si metteva a letto ecco rassegnate si attaccava allo stereo lo stereo quello che si aveva grande o quello con le cuffiette si pigiava c'erano le musica sete se ve le ricordate le musica sete che tanti dai miei giovani non sanno manco cosa sono e partiva la canzone cinque giorni che t'ho perso mille lacrime cadute e tu ecco e come proprio mettersi lì e darsi proprio le randellate negli zebedei perché proprio ti facevi del male eh perché non è che dicevi beh faccio qualcosa per tirarmi sul morale ascolto gli europe ascolto un po' di musica pop no che proprio volevi farti del male perciò cosa c'era se non cinque giorni che t'ho perso mille lacrime cadute e tu lì piangevi 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 poi magari veniva l'amica a trovarti perché non c'erano i cellulari che potevi scrivere eh no non c'era niente veniva l'amica e ti diceva ma si ma fregatene ne trovi mille come lui ma figurati ma lascia appena non te la prendere tu vali molto di più le classiche frasi che dici a una mollata tu vali molto di più ne troverai mille capito ecco le solite frasi che tanto serve un cazzo però tu le dici tanto per cercare di rincuorare l'amica capito ecco e lì dopo un po' di giorni ti passava e uscivi andavi a rigargli la macchina andavi a rompergli il tergicristallo facevi qualcosa per vendicarti non sto scherzando però tanti l'hanno fatta ecco e così poi ti passava e andavi trovavi subito un altro perché erano delle cottarelle dai che duravano poco ed era così adesso invece con l'era dei telefoni cellulari facebook youtube tiktok quando vieni lasciata tante volte vedo ascoltando vedendo i post che mettono magari ti lasciano tramite messaggio whatsapp o tramite cellulare non c'è più quella di dire ti devo parlare al telefono che ti telefonavano in casa e ti dicevano ti devo parlare adesso c'è ti mollano già tramite whatsapp capito ecco e anche lì è cambiata perché non c'è più cinque giorni che ti ho perso no perché mo ci sono appunto i social perciò apri una live ti metti a piangere lì ti sfoghi lì quel bastardo quello stronzo quel fio della mignotta mi ha lasciato tutto quello che stanotte sta ragazza qua così vi giuro cioè a me da una parte faceva tenerezza dall'altra ridevo perché eri in casa sto fio della perché era di una ragazza di Roma no sto no di terni mi sembra sto fio della mignotta tutto quello che ho fatto per lui gli ho pure comprato un regalo e adesso che me li redà i soldi sto stronzo ci hanno detto di tutti i colori vi giuro piangeva e urlava mo vado gli sfascio la macchina e la distrugo sto stronzo vabbè come amica però vicino che ma frega che ne che ne trovi mille questo non è cambiato devo dire che una volta da una volta adesso il che ne trovi mille è sempre uguale ecco però adesso qui social è così capito vedi basta vedere i post che mettono su facebook magari quelle un po' più in avanti con l'età che hanno magari 40 anni mettono il post su facebook con le classiche frasi ecco la mia vita ricomincia da domani da domani prenderò cura di me stessa c'era da domani cioè tutti i post classici no che mettono una volta che è finita una relazione e poi diciamo che diciamo che ecco una volta perché io l'ho passata questa no quando si veniva lasciati poi tu volevi vedere se se sto ragazzo che ti ha lasciato ne aveva un'altra se ti aveva lasciato per un'altra perciò cosa facevi prendevi con l'amica e andavi a farlo in seguimento andavi a seguirlo no vedere dove andava se ne aveva un'altra se ne vedeva un'altra o con la macchina o col motorino seguivi andavi a vedere ecco magari dove abitava se usciva ecco ci si accontentava di questo capito adesso invece è vero che comincia lo stalkeraggio una volta che ti lascia comincia già dai social perché tu cosa fai non vai col tuo profilo ma mandi l'amica a vedere facebook instagram e tutti i social per vedere se magari mette una foto una frase vai a guardare tutte le amicizie che ha se ha aggiunto qualche ragazza se non l'ha aggiunta diventa uno stalker praticamente ma penso che sia per tutti adesso così per quelli giovani almeno come è cambiata veramente anche sulle piccolezze che possono essere appunto essere lasciati da dal proprio fidanzato dal proprio ragazzo una volta che non c'erano i social ad adesso capito cioè che una volta non è che potevi andare a guardare se aveva aggiunto amiche con un'amiche e adesso invece figuriamo io credo che tutti quanti noi da quando ci sono i social siamo andati un po' a spulciare il profilo del proprio amato che ti ha lasciato per vedere se ha aggiunto amiche non amiche se riesce con qualcuno se magari metti una foto e vedi la mano di qualcuno cioè si diventa un po' dei propri veramente di stalker mmm lo fai liapo? no no non c'è niente non ti piacciono i capperi non penso che vediamo ma non penso che ti piacciono i capperi sono acidini sai no non dimmi che mangi il capperi senti l'odore prima senti l'odore pure il capperi a te basta mangiare lo capito sei come la mamma sei come la mamma pure te guarda tale figlio tale mamma tale mamma tale figlio mmm avete visto la mosca che è passata? avete visto Uga? c'è c'è ragazzi c'è mi viene detto dappertutto non manca mai vuoi farla protagonista Uga vuoi farla protagonista perché in tutti i video ormai c'è ieri mi hanno scritto che dura che durano 30 giorni solitamente le mosche io non so da quanto tempo è qua che gira non lo so speriamo arrivi a Natale ecco e comunque ragazzi questo veramente è diventata una cosa assurda io me ne accorgo su tante cose che i social mamma mia quanto hanno fatto cambiare tutto quanto dal modo di mangiare di fare cioè adesso io vedo le persone vanno al ristorante vanno al ristorante prima di mangiare io mi ricordo che quando sono andata con l'Alessia no? quando sono andata con l'Alessia a mangiare sia qua che al cinese cioè non vedevi una persona che prima di mangiare l'ho fatto pure io ma io l'avevo fatto per fare il video però non vedi una persona che quando gli portano il piatto capito che magari il marito vuole mangiare sta fermo che te cionco via le dita sta fermo che prima devo far vedere all'amica per farla rosicare che io sono al cinese che sto mangiando sta fermo lì perciò ti metti lì così cioè le vedi lì così che inquadrano tutto fermo lì ecco il tuo piatto il mio fermo non mangiare guarda che ti taglio le dita ecco così che prima bisogna fare le foto per metterle in social perché bisogna far vedere a tutti che sia al ristorante che stai mangiando cosa stai mangiando io ho capito e ormai il mondo di social è questo inutile è così mi è andata la saliva di traverso ecco ecco il mondo dei social è così da una parte è migliorata la vita dall'altra proprio non si è più padroni di niente perché purtroppo devi tutto far vedere agli altri cosa fai cosa mangi dove vai con chi vai se c'hai adesso quando sei infidanzato inizio di una nuova relazione fine della relazione inizio di una nuova relazione e mi matrimonio giorno c'è ormai si posta tutto c'è io vedo facebook e io facebook vado poco è perché una volta mi piaceva adesso vado più per guardare così veloce poi però ciao Uga vieni amore vieni mi tirano su pazza vado così per guardare però io vedo l'inizio di una relazione fine della relazione bastardo ma ecco perché poi mettono tutto stronzo ma hai rovinato la vita bastardo figlio della mignota no guardate che io con quella di stanotte quante risate vi giuro ho detto mamma mia quante gliene ha dette a sto tipo qua quante gliene ha dette figlio della mignota stronzo dopo gli ha detto sono andata pure a mangiare da sua madre e ha cucinato dei merda e ho detto che era tutto buono ma faceva schifo cioè mamma mia ha detto di tutti i colori viglio un colpo rideva un colpo piangeva un colpo era disperato aveva il mascara fin qua tant'è che ho detto non è waterproof con quel mascara lì ce l'aveva qua capito cioè veramente mamma mia veramente che si l'apo non c'è più niente amore non ti lascio neanche leccare perché il piatto perché ci sono giù i pezzettini di di peperoncino e ti fanno male sai ti fanno male niente adesso salutiamo ragazzi io vi saluto spero di avervi fatto compagnia come sempre come vedete cerco sempre di farvi un video tutti i giorni e lo farò forse se posso anche a natale tanto io sapete che per me è una giornata come un'altra non è che stia lì a far festoni pranzoni niente ecco io vi mando un bacio se vi va come sempre lasciatemi un like vi do un ciao un abbraccio un bacio formato famiglia e alla prossima ciao ciao